Mare Forza 9, pioggia battente, raffiche di vento superiori agli 80 km orari, temperature scese di almeno 3-4 gradi. È arrivato il maltempo nelle Marche a spezzare una lunga coda d'estate. Nel pomeriggio una burrasca con Mare Forza 9 al porto di Ancona ha rotto gli ormeggi di due traghetti greci, l'Olympia Palace e l'Olympia Champions, subito dopo lo sbarco dei passeggeri. Nessun ferito, ma non sono mancati i disagi. La motonave Riviera del Conero, in arrivo da Durazzo, ha dovuto attendere oltre due ore prima di attraccare. Il vento fortissimo ha perfino diverto il casotto della Guardia di Finanza all'ingresso dello scalo al varco d'Achio. Disagi anche sulle strade. A causa del maltempo c'è stato un tamponamento a catena lungo l'asse nord-sud che conduce in centro ad Ancona. Nessuno degli automobilisti è rimasto ferito, ma si è formata una coda chilometrica che ha reso difficile l'accesso in città. Lungo l'A14 alcune vetture sono state danneggiate da cartelli stradali strappati dalle raffiche. Soprattutto ad Ancona, Iesi e Senigallia, varie squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per liberare le sedi stradali da alberi divelti e rami caduti. A Porto Potenza, Picena, la copertura di una stazione di servizio è volata via. Problemi anche alle foci dei fiumi per i detriti trasportati dalla pioggia. La perturbazione si sta spostando verso sud e nelle prossime ore la protezione civile delle marche prevede un miglioramento delle condizioni meteo.